Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come state? Oggi sono troppo emozionato perché inizia il periodo dell'anno che preferisco. Avete capito di che cosa parlo, no? Intanto, se non mi conosci ancora, io sono Filippo e questo è Filippo Svecchery. Come ti dicevo, oggi sono troppo contento perché prepareremo insieme l'omino di pan di zenzero, gingerbread man, chiamalo come vuoi, ma lo faremo in versione gigante. Sei pronto a vedere come? Vediamolo insieme! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!